Per Vincenzo Angelone un ritorno alle origini, un ritorno a Giulianova, riparte questa nuova avventura del calcio giuliesi, una piazza importante, per Vincenzo Angelone questa sicuramente non è una diminuzio? Assolutamente no, è una piazza importante con un progetto importante, quanto ci sono la possibilità di lavorare nei progetti seri come quello che mi ha illustrato il presidente Bartolini, sicuramente non bisogna guardare la categoria, ma bisogna accettare di buon grado, mettersi sotto e da subito farne parte e cercare poi prima possibile di raggiungere quegli obiettivi che sono inseriti in questo progetto. Obiettivi che ovviamente puntano ad un torneo di vertice, ma soprattutto a tornare in pochi anni nel calcio che conta? Ma ce lavoriamo tutti, ce lavoriamo noi come persone principali del progetto, ce lavoriamo per i tifosi di Giulianova perché è una piazza calda, una piazza che merita altre categorie. Adesso siamo a buon punto perché siamo riusciti a sposare questo progetto insieme al presidente, siamo messi subito d'accordo per quanto riguarda anche la parte tecnica, quindi dobbiamo subito iniziare a lavorare perché c'è bisogno di creare un buon gruppo, partiamo da zero, quindi non abbiamo già la disposizione, quindi c'è da lavorare molto sul piano tecnico, sul piano tattico, nella formazione come ho detto poc'anzi di un buon gruppo, in modo da farci trovare pronti subito alla prima di campionato, cercando già di ottenere dei buoni risultati, che poi sono i risultati quelli che ricoinvolgono il pubblico, ridanno entusiasmo.